Presidente Freri, con il convegno di oggi diverse associazioni si riuniscono, diversi enti si riuniscono per disegnare, per tracciare quella che sarà la città del futuro. Potrebbe anticiparci gli argomenti della giornata? Sì, il forum di oggi vuole porre un momento molto importante in cui architetti, costruttori, legambiente, produttori, federlegno, tutti quanti assieme lavoriamo per la città di domani, ma non un domani lontano, un domani molto vicino. Per far ripartire lo sviluppo del paese bisogna investire sulle città. Le città hanno bisogno di essere ripensate, di essere rigenerate, di non consumare più energia, di avere un habitat migliore, di essere più efficienti per attrarre pile e investimenti. Noi oggi siamo a tracciare questa strada e la tracciamo non per un'utopia, ma con proposte molto precise che abbiamo già consegnato al governo, a cui il governo, nella persona del ministro Passera, ha cominciato a dare risposte positive. Per cui oggi siamo qui a non solo fare proposte, ma anche tracciare il percorso tecnico che porta alla rigenerazione della città, per il quale abbiamo bisogno degli architetti italiani, dell'industria italiana, dei costruttori, di tutti quelli che possono contribuire. Quindi la collaborazione con Federlegno Arredo darà sicuramente dei frutti? La collaborazione con Federlegno Arredo è molto stretta e questa è la prima puntata di un percorso lungo, intanto perché è una realtà fondamentale dell'industria e dell'export italiano e dell'innovazione italiana. A noi è molto legata per tutto il mondo del design e non solo, ma anche perché il futuro della città sostenibile passa per il legno e per cui abbiamo bisogno di lavorare insieme e insieme non solo lavorare in Italia, ma conquistare anche i mercati esteri con le nostre capacità. E per conquistare i mercati esteri servono anche le fiere, oggi siamo al Salone del Mobile, a ottobre ci sarà Mad Expo. Servono le fiere, serve Cosmit, serve Made, serve dimostrare che la realtà italiana vera non è quella che leggiamo oggi sui giornali, è quella che tutti i giorni si fa nelle fabbriche, negli studi di architettura italiane, è una realtà forte, è una realtà competente che ha bisogno di rianimarsi un po', di avere più ottimismo, più energia e questo lo facciamo stando insieme. Grazie a tutti!